Chiodi equilibristi Questo è un gioco incredibile. Se qualcuno ti chiederà di mettere 10 chiodi sulla punta di uno, dirai che è impossibile, ma in realtà è molto semplice. Prendi un chiodo, prendi un altro chiodo e mettilo con la punta rivolta a sinistra. Prendi un altro chiodo e mettilo con la punta a destra. Metti altri chiodi, fino a che non avrai 4 chiodi con la punta rivolta a destra e 4 chiodi con la punta rivolta a sinistra. Poi metti l'ultimo chiodo esattamente allineato con il primo in modo che blocchi gli altri chiodi. Ora prendi il primo e ultimo chiodo e mettilo delicatamente sulla punta del chiodo verticale. In questo modo avrai 10 chiodi bilanciati su uno. Puoi anche spostarli.